Cara amica, caro amico, il 20 e 21 settembre il tuo voto sarà decisivo per il futuro della Toscana. Negli ultimi anni gli interessi di lavoratori, disoccupati, precari, famiglie e piccole imprese sono stati dimenticati. Serve ascoltare e aprire nuove prospettive. Servono energia, passione, cura. La stessa cura che da sindaco ho rivolto ai miei concittadini che da mamma dedico alla mia bimba, la mia fonte inesauribile di motivazione. Non deve contare la tessera di partito. In tasca ciascuno ha qualcosa di più prezioso, la pietra della democrazia. Quella in grado di edificare un futuro di cambiamento e di alternanza, una storia bella di passione civile e rinascimento. È nostro dovere lasciare ai nostri figli una Toscana migliore, in memoria di chi nei secoli ha reso la nostra terra grande nel mondo. E per debito morale verso i nostri genitori e nonni, che hanno combattuto per la libertà e hanno creato con loro sudore benessere e ricchezza. Lascia da parte le ideologie. Scegli la concretezza e il cambiamento. Toscana. Ci siamo.